ciao ciao a tutti bentornati nel mio canale ragazze e ragazzi bentornate nel canale di fantasie di terry oggi andiamo a fare un video diverso da altri video allora era da un pochino di tempo che pensavo di mettere le mani nella resina perché era da un po di tempo che veramente non la usavo così mi è venuta la fantasia in questi giorni di riprendere gli stampi dove erano conservati e di fare qualche colata adesso vi faccio vedere quello che ho fatto sperando che non sia un flop totale perché non sono molto sicura di quello che sono andata a realizzare allora come potete vedere non sono molti stampi qualcuno già l'avevo fatto qualche giorno prima ma magari dopo ve li faccio vedere e andiamo a cominciare allora andiamo a spostare questi e vediamo un pochino quello che ho combinato e cominciamo da questi qua che sono molto molto curiosa e non so che cosa ho combinato e mi sa che saranno questi qua proprio un fake speriamo bene perché praticamente sto toccando e già sto vedendo che la resina che ho messo sotto è ancora un pochino umida perché ho fatto prima una prima colata con la resina UV perché ho messo una cosa che adesso vedrete un elemento che adesso vedrete e dopo l'ho fatto con la resina normale quindi andiamo a girarlo in anteprima piano 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 sembra che me lo metto a fuoco eccolo qua vediamo se me lo metto a fuoco eccolo beh devo dire che non è venuto molto male comunque la resina devo andare a farla asciugare quella sopra perché la resina UV scusatemi le unghie sono indecenti e questo è il primo eccolo qua andiamo a fare l'altro penso che sia sempre uguale no è diverso questo perdonatemi scusatemi nel frattempo mi è arrivata una chiamata e ho dovuto assoppare quindi il capo che avevo uscito era questo qua però diciamo che mi piace molto di più questo questo qua che questo qua adesso vediamo gli altri ecco questo qua diciamo che dovrebbe essere uguale a questo è più scuro il fiore perché non ce l'avevo uguale comunque questo è il limite lì userò per fare dei ciondolini questo invece è uguale a questo qua vedete questo adesso li dovrò fare asciugare ancora un pochino perché sono con la resina UV ora abbiamo questi qua più grandetti ecco qua e qua peccato è venuto è venuto proprio al centro del fiore è venuto un buco guardate un po' vediamo se riempiendolo con la resina UV riesco a recuperarlo poi c'è questo insomma questo non mi piace molto e va bene diciamo che sono state delle prove perché era da tanto che non toccavo la resina e questi sono due piccoli diciamo fiorelline che sono della resina che mi era qua c'è venuto una bolla che mi è rimasto il frombaglio di orecchini al lobo ok e diciamo che questi sono i cabochian piccolini allora la mia curiosità è su questo e sulla penna allora questo è uno stampo che io ho preso in un sito di Manuela che è fantasy di Manuela Vio se non sbaglio non vorrei sbagliare comunque se volete mi fate sapere vi metto il link ed è uno specchietto uno specchietto da borsa ed è molto carino questo stampo e vediamo un pochino cosa ne è venuto fuori ho capito perché vediamo se riesco a muovere con la luce scusatemi un attimo se sentite il rumore non vi preoccupate perché sto accendendo la lampada siamo di giorno ma la luce non è granché non lo so allora è asciutto sì e qua si sforma molto bene allora questa è la base facciamo prima questo che è la parte superiore devo dire che questa è resina allora lo giro eccolo qua ho aspettato che ci sia venuto questo alone qua però devo dire che è venuto bene questa è resina devo dire che mi sto trovando molto bene è la resina della Resin Pro è della liquidissima e come potete vedere io qua bolle non ne vedo è venuto veramente bene senza bolle questa è la parte superiore adesso sformiamo la parte inferiore vediamo un po' che cosa è venuto fuori diciamo che è la parte più difficile perché non lo so vediamo eccolo qua veramente bene venuto non ci sono bolle non c'è niente ovviamente e questo viene così eccolo dentro viene messo lo specchietto che vi faccio vedere subito che dovrei essere avrei questi qua sotto mano eccoli qua gli specchietti vedete poi qua si toglie questo qua e c'è lo specchietto ecco questo qua e c'è lo specchietto e si va a mettere qua una parte qua e una parte qua dentro forse l'altra comunque una parte qua una parte sotto e una parte sopra e poi si va a chiudere con il collegamento che adesso vi faccio vedere però adesso non lo esco perché ancora questo qua è un pochino morbidino vedete questo qua si che si va a mettere qua e si aggancia comunque io ne avevo fatto già una adesso ve lo faccio vedere che è diverso eccolo qua vedete qua devo mettere sempre il vetro dentro e devo anche mettere il collegamento lo sto facendo asciugare infatti bene e devo dire che anche questo qua mi piace anche questo qua ok poi poi andiamo a sformare la penna che è un'altra delle cose che mi interessa per vedere come è venuta questi sono tutti i stampi che io ho preso da questa ragazza diciamo che questa è la terza penna che faccio perché ne ho fatte diverse che non è che mi sono venute bene infatti le ho regalate ai miei figli ma questo devo dire che è venuta veramente bene vedete l'ho fatta tutta in questo colore questa è una commissione dopo poi magari vi faccio vedere come la la confezionerò qua magari è venuta un pochetto ma ci metterò un pochino di resina UV ecco qua e qua poi farò una collata di resina trasparente è venuta carina adesso andiamo a sformare questi qua che io li userò o come semplici orecchini o anche come pernetti per le mie creazioni e allora andiamo a cominciare con i cuoricini che ho fatto con questo verde che mi era rimasto vedete carini poi ho fatto gli ovali eccoli qua col dorato anche blu e dorato poi ho fatto la stellina che avevo fatto prima anche se sono diverse ma in ogni caso io farò questo andiamo farò la coppietta in questa maniera qua stellina e luna poi ho fatto i quadrati quelli un pochino più grandi eccoli qua che sono uguali a questi qua e questi qua vedete il colore molto bello questo blu questi sono invece un blu scuro col dorato ecco questa l'ho messa a fuoco e poi ci sono i rombi eccoli questa è tutta la resina di scarto che mi era rimasta e quindi l'ho usata in questa maniera qua questi cuoricini piccoli 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 guardate che sono bellini questi anche da mettere tipo nel nel buchetto quello che diciamo chi ha più di un buchetto questi qua si possono mettere nei buchetti quelli al lato dell'orecchio perché sono piccolini piccolini e poi abbiamo i tondi e poi abbiamo i tondi ecco qua e queste sono tutte le creazioni in resina che io ho realizzato diciamo per fare qualche cosina comunque ragazze spero che questo video un po' diverso dagli altri vi sia piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale e ci vediamo presto per nuove novità che ci saranno sul canale vi auguro una buona giornata ciao ciao a tutti un bacione a tutti quanti ciao ciao ciao